Signori di Voci.fm, eccomi qua, sono Pino Insegno e vi auguro ogni bene, continuate così, la voce è l'elemento di comunicazione più importante al mondo, ma non la bella voce, attenzione, le belle intenzioni, ecco, cercatele sempre. Guarda l'intervista completa su Voci.fm o scarica gratis l'app per iOS e Android.